Trent'anni ad altissima velocità, questa film troppo bassa. Per la prima volta in vita mia ho fatto i conti con la mia storia. Che mio padre pensasse che i musicisti sono tutti dei morti di fame, ne sono certo. Perché abbia contraddetto se stesso regalandovi una chitarra acustica, quello rimane un mistero. Salire sul palco del Campovolo significa fare un concerto unico. Ti toglie il chiacro, te lo toglie tutto. Il Campovolo è roba sua. Tutte le cose che ho fatto spesso sono nate da un enorme perché no. Dicevano il perché no, magari mi ritrovavo a fare il registro di un film. Contro il cielo Caro Luciano, sarebbe quasi banale dirti continua così. Sono sicuro che tu andai anche oltre. Luciano, botta! Grazie a tutti per quello che mi avete regalato in questi trenta e bassa anni. Mi avete regalato una vita bellissima. Grazie a tutti. Grazie a tutti.